hi guys fa la galera o la chicos ciao ragazzuoli oggi siamo qui su una gara bmx vedete già quale il paesaggio che si che ci aspetta e siamo con un ospite un ospite gradito alex bella bella ragazzi bella ti ringrazio da morire per tutto ma che devi ringraziare guarda questo come vola guarda che cazzo è visibile io accetto solo i tuoi ringraziamenti se non mi butti per aria ti avverto e mo vediamo aspetta no mo vediamo niente alex che cos'è questo punto esclamativo e cose modate strane prima che inizia il video iscrivetevi anche al canale di di alexino perché lui anche a lui anche video che cazzo è qua video di gta ovviamente molto simpatici però parla italiano io però parla italiano solo ragazzi no sono stato morto come un cretino ma che cazzo è tra i buchi stanno i buchi il formaggio aspetto un attimo aspetto un attimo aspetto un attimo che cazzo facendo dei film allucinanti consecutivamente alex madonna ok ce l'ho fatta perfetto sesto poi ce l'ho fatta pure ora però ci ho messo troppo tempo ottavo posto addirittura io sono perso tempo a cadere tra le rampe queste cose da soffi queste rampe qui modate della mode menu del playstation 3 praticamente ho notato mi gusta mi gusta mi gusta devo recuperare qua c'è il mercato non avevo messo se 22 giri si qua siamo al mercato di qualche prugna per caso e mom la compra ma pure qua stanno i così modati cioè tra le tutto 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 no guarda i contenere è morto no sono morto pure io però no arenamento sarò chiamare io so quarto mi sta andando tutto a culo no di nonostituzi che fanno le rampe modate qua che stanno i buchi al centro i buchi formaggiosi ok ce l'ho fatta formaggiosi inizzerò attenzione ok siamo al sesto posto si fa in shiteker si fa in shiteker infatti è tedesco ancora qui ho notato no no non cadere di nuovo perché no vabbè raga io devo andare a fare un pellegrinaggio da padre pio assolutamente mi spiego non capisco sticusi col punto esclamativo non ho mai visto cosa del grube del genere perché non esistono nelle creature normale solo nel nel creato guarda cioè io non lo so che sto combinando nel creatore dicevo del questo mod menu ah ecco perché vabbè io sto prendendo un rincorso non riesco a fare ecco sto dietro di te alfix non riesco a fare tutto appunto se noi costora nemmeno siamo solo una cosa da prove qui attenzione ma si può citare qui ok dai 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 sì che culo l'hai fatto saltando io così sono al quinto posto io vediamo a 38 secondi il primo è impossibile a meno che fa un paio di filo chi è idem ma lo conosco idem sono io vabbè piacere comunque tu che posto slimo io sto al quinto posto ma sono veramente ragazzi sono veramente euforico perché tu guadagni 9.980 euro al mese no in un video che faccio per ogni viso quindi raga se volete qualcosa scrivetemi qui sotto hashtag conto corrente e io vi passo un po di soldi c'è alex ve li passa però è me ok dai tutto a culo us è troppo bella sta gara si è bella sì bella sì però sono al terzo posto attenzione ha fatto un mega ricordo ero io terzo dell'epoca di cristo ma non è c'è il mio famigerato nemico antonio al secondo posto antonio che mi ha detto che ti verrà a suonare a casa tua se sia la storia qui l'aspettavo qui vicino al citofono ecco e vuoi un caffè anche sì sì e due pacche di attenzione 2 è incredibile cipollini ma conosciti cipollini c'è vista famosissimo un mito grande l'uomo poi attenzione e lo dico sempre nei miei video non so perché la mia fis però ti piace cipollini sì ma perché lo dico nei miei video così vabbè ragazzi quindi se se a voi non dà comunque le persone omosessuali potete comunque scrivervi al canale di alex è stronzo insulti in diretta sì 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 così otto secondi da luca rosa attenzione alex è qui c'è il mega comeback il mega recupero se la vinco non so chi è più lungo tra me e voi cioè perché veramente ho fatto una gara di merda inizialmente no torna indietro mai sono molto graziosa sulla sulla bmx il mio personaggio è gente dell'acqua di degs a tutte le parti proprio sì sì anzi salutiamo degs che sicuramente non ha visto sto video poi gli fai una chiamata ok e lo vedrà le strettoie incredibile le strettoie attenzione secondo io ma questo non sbaglio tu i container ti ha scritto jetsam tu li sponsorizzi vero si sul mio canale mi danno una percentuale solo secondo ok raggetti se una pure hashtag hashtag primo hashtag primo è grandissimo mica per caso è scommesso di me quarto posto io no perché devo scommettere su di te sei un uomo che non ha fiducia negli altri aspetta un attimo aspetta un attimo alex zi ma vai l'ho preso senza mai perfetto senza vasellina l'hai preso senza vasellina senza vasellina hashtag vasell tutti hashtag oggi oggi pieni di hashtag oggi è questo video si chiama hashtag no no non sono arrivato dai no le biciclette taroccate mi fai prendere madonna c'è la ruota bucata forse sono no me ne fai occupare la delegatron quanto dura sta cara sto sudando ma non mi sento più il dito sinceramente con la x che fa 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 attenzione 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 alex ci siamo quasi ci siamo quasi cazzo si fa chiudere in prima posizione a ragazzi provo questo video devo andarmi a lavare le mani e le ascelle la fronte quindi la doccia ci becchiamo dopo qualche giorno dopo la doccia e vabbè ragazzi nel frattempo che alex finisce sto video mi raccomando andate a vedervi il canale di alex date un'occhiata e se vi piace ovviamente iscrivetevi perché ci sarà anche un video fatto con te sì poi due video al giorno sono pazzo lo so poi lui posta una foto nudo e ragazzi quando mi spoglio e vabbè ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando cerchiamo di dimmi dimmi no hai promesso che ti spogli pure tu che quindi si facciamo una foto insieme nudi ok ci vediamo ragazzi al prossimo video mi raccomando almeno raggiungiamo i 1000 like i 1000 like ci si possono raggiungere 1001 e siamo a posto con la coscienza ok vai concludiamo ha pure concluso e ragazzi ci vediamo al prossimo video saluto alex bella bella ragazzi saluto antonio ciao saluto antonio